Le questioni finose ve lo ricordate? Abbiamo accantonato gli articoli più delicati sulla composizione perché adesso stiamo facendo l'altro lavoro su articoli altrettanto importanti quando si tratta di Costituzione sono tutti importanti spesso accade nei provvedimenti, accantoniamo alcuni ma riprenderemo nei prossimi giorni, già domattina alle 10.30 siamo qui puntuali un'altra volta La voce girata che il premio...